ciao! ciao tesoro mio come stai? benvenuto a questo nuovo video di ASMR qui nel canale di Sosha come sempre ti invito a dare like al 3000 like il prossimo video in italiano quindi like 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 e come sempre ti invito a dormire molto molto bene io pago o pago io che vuole oggi vengo a darti un massaggio virtuale rilassante nella tua testolina nei tuoi capelli quindi rilassati mette le cuffie e iniziamo questo nuovo video ciao! come stai? oggi voglio farti rilassare farti dormire molto molto bene ma soprattutto sono qui oggi per co-collarti co-collarti ti invito a chiudere gli occhi e immaginare che passo piano 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 con le mie mani sulla tua testa e ti aggrezzo i capelli e ti farci o massa ciò e ti farci o massaggio rilassante Passo piano, 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 piano. Sopra la tua testa. Senti come passo le mie mani per il tuo viso. Mi prendo cura di te. Io avrò cura di te e ti farò guarire. Sai? Come la canzone di Pietro Artunica. Io avrò cura di te. E guarirai in questo momento detto le tue malattie e soprattutto di ogni tuo pensiero negativo. Perché sono qui a cocolarti, a farti dormire. A farti addormentare mentre ti faccio questo massaggio. Niggle bit. Se la dottie stellina. Quindi, oggi le mie mani ti faranno guarire. E ti faranno dormire presto, 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 presto. Dormirai subito. Ma soprattutto... E starai più sereno, più tranquillo. Perché ti faccio stare bene. Vous intrigued. PerEspimico. PerEspimico. se lascia ti faccio sentire molto immagina che aggarezzo la tua face aggarezzo quel visino così bello che hai ti faccio sentire bene 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 ti faccio tante tante coccole manco la tua nonnetta li fa tante coccole come te li faccio io quindi devo dormire presto 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 con il mio amante ma facciamo la mia amante io amo coccole soprattutto amo farti dormire molto bene e oggi dormirai veloce 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 cantiamo la nina nana ti canto la nina nana così vai a dormire subito nana 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 ah 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 nana nana nino devi fare silenzio perché la mia persona favorita nel mondo dorme sta dormendo mentre io gli faccio gli faccio e soprattutto gli faccio i capelli non c'è niente c'è di più rilassante che un massaggio nella testa e molte carezze carezze nei capelli nei capelli nei capelli nei capelli i 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